Abbiamo chiuso il bilancio di previsione per il 2024 e si chiude il 2023. Intanto auguri a tutti, ci avviciniamo al Capodanno, naturalmente si affronta questo passaggio sempre come un nuovo inizio e con la speranza che l'anno prossimo sia migliore di quello passato. Non dovrebbe essere difficilissimo perché il 2023 è stato un anno difficile, guerre, inflazione, incremento della bolletta energetica. Abbiamo dovuto superare prove difficili, negli anni precedenti ancora peggio con la pandemia, quindi davvero è difficile affrontare anni peggiori. Però l'abbiamo fatto, ne siamo usciti i forti. L'Abruzzo che consegniamo alla prossima legislatura, sapete che nel 2024, all'inizio del 2024, il 10 marzo, si tornerà a votare e ci sarà una nuova amministrazione. Chi governerà l'Abruzzo nei prossimi 5 anni, erediterà un Abruzzo ben diverso da quello che ho trovato io 5 anni fa. Con questo nuovo bilancio abbiamo saldato tutti i debiti, 450 milioni di debiti ereditati dal disavanzo delle amministrazioni precedenti, che con questo bilancio abbiamo completamente saldato. Abbiamo chiuso i contenziosi, parificando i bilanci dopo aver ereditato 4 rendiconti annuali che non erano stati approvati dalla Corte dei Conti. Abbiamo messo in bilancio le risorse che servono a garantire per i prossimi 10 anni il contratto di servizio con le ferrovie per i pendolari, 68 milioni all'anno per 10 anni, nessuno dovrà fare le manovre di bilancio che ho dovuto fare io per dare copertura a queste voci ed evitare che i treni o gli autobus si fermassero. Abbiamo messo in bilancio tutte le risorse che servono a sostenere le imprese attraverso i fondi europei, sia sull'agricoltura che sulle attività produttive che nel sociale, garantendo la quota parte della regione per finanziare questi bandi, questi avvisi e per mettere in campo il miliardo e oltre a disposizione attraverso i fondi europei. Abbiamo messo in bilancio i soldi che servono per costruire gli ospedali, abbiamo attinto dal governo nazionale quasi 400 milioni di euro e non è finita e dobbiamo garantire la nostra quota parte di finanziamento, 58 milioni di euro sono in bilancio per costruire i nuovi ospedali in Abruzzo che daranno un volto diverso alla sanità abruzzese. Crediamo di aver fatto il nostro dovere anche affrontando le emergenze del momento, come quella in agricoltura, la peronospora che ha messo in ginocchio i viticoltori, è stata solo l'ultima delle catastrofi che si sono abbattute per condizioni meteo avverse sui nostri agricoltori. Noi abbiamo stanziato altri 13 milioni dopo averne già stanziati i primi 5 che sono già pubblicati l'avviso per il piccolo prestito. I prossimi 13 andranno come risarcimento e rimborsi a fondo perduto per i danni subiti. Rilanceremo l'Abruzzo come abbiamo fatto quest'anno con la grande partenza del Giro d'Italia e gli altri grandi eventi sportivi e artistici come la notte dei serpenti, lo faremo anche il prossimo anno. L'Abruzzo ospiterà la conclusione del Giro d'Italia femminile e ospiterà i mondiali degli sport rotellistici, una delle discipline in maggiore crescita e soprattutto di maggiore voca tra i giovani e i giovanissimi, seguita e vista da centinaia di milioni di appassionati nel mondo intero. Così facciamo conoscere e crescere il nostro Abruzzo. Vogliamo continuare a crescere, vogliamo continuare a crescere tutti insieme e vi auguro a tutti voi un 2024 di successi e di felicità.